oh no! oh è il video ah è il video? la persona più grande del mondo mi sento il volume oh fatelo girare fatelo salutare non è la stessa che è il video che è il video saluta l'ai il sito saluta l'ai il sito è un briato ah si è dato ah si è dato ti ricordi che non la portavo no fatevi ero mio no fatevi ero mio no fatevi ero mio eh fatevi ero mio ero mio voglio avere un briato ah in canale a pezzi mie dai in canale a pezzi mie andrea guarda 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 in canale in canale in canale guarda 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 Grazie.